Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alex da Vantotobise e sono ancora a Cefalù, al Bed and Breakfast Arcobaleno ed è... qui ci sono un secco di animali, come galli, capre, qualche gatto, eccetera e di là sta un'asinella, che poco fa ho accarezzato il nome è Paperina eh sì, ad esempio questo è un cane che poco fa è venuto non si sa come far ad entrare però è comunque un cane che qualche volta fa visita qui siamo dai galli che hanno qualche uova, le vedo d'occhio poi c'è il Parcobaleno, perché appunto qui si chiama Arcobaleno dove ci sono gli altalene il trampolino, che però per entrare bisogna togliersi le scarpe è uno scivolo ora andiamo dalle capre eccole qua, le capre eccole qua la ce ne sono altre adesso dato che qui ci rimango la notte ovviamente anche una piccola casa adesso ve la faccio vedere con tutte le stanze qui ci sono tre letti uno matrimoniale e due uno per mio fratello l'altro per me io dormo sopra si notata anche dal mio uovo di Pasqua che vi ho fatto vedere qui abbiamo anche la televisione questa invece è la cucina è piccola però è pur sempre una cucina qui invece ci sono delle straglie qui è molto spazioso ed in là stanno anche i cavalli eccola i cavalli lì ci sta il cane degli altri vicini con questo vi saluto e finisco il mio video e ciao